Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per mostrarvi l'anteprima Panini Disney 356 di quello che vedremo appunto per quanto riguarda il mondo Disney nel mese di giugno del 2021 quindi nel mese di giugno ma ci saranno anche delle pubblicazioni che saranno pubblicate oltre giugno però andiamo subito a vedere insomma cosa ci sarà, cosa ci propone la Panini Comics in questo caso il mondo Disney io vedo subito una cosa incredibile ragazzi, l'inferno di Topolino con prefazione di Tiziano Sclavi e per un amante di Dylan Dog come me vedere Tiziano Sclavi alle prese con Topolino che è un'altra delle mie passioni, dei fumetti che a me piacciono molto, cioè i fumetti Disney questa è la deluxe edition per cui ragazzi, ora vediamo qui appunto settembre 2021 il costo è molto elevato, 79 euro per 96 pagine in occasione dei 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri Panini Comics propone l'edizione definitiva della grande parodia Disney, l'inferno di Topolino la versione originale, integrale, con una nuova pregiata colorazione firmata dallo straordinario Fabio Celoni con Luca Merli, in formato gigante, a tiratura limitata e numerata a mano e materiali di pregio la copertina è impreziosita dalla tela nera con scritte metalliche il formato maxi permette di apprezzare al meglio la nuova incredibile colorazione della storia scritta nel 1949 da Guido Martina è disegnata da Angelo Violetto, maestri della scuola italiana le preziosi tavole a fumetto sono corredate da un apparato redazionale di approfondimento con contenuti esclusivi, immagini rare e omaggi inediti di grandi autori del fumetto italiano in più la litografia inedita autografata da un grande maestro Disney ragazzi, questo è un qualcosa di eccezionale 79 euro, un prezzo molto alto per 96 pagine ma l'inferno di Topolino con prefazione di Tiziano Sclavi io credo che sia una perla io anche per motivi economici non la prenderò però, celebrazioni dantesche, l'inferno di Topolino in edizione super deluxe assolutamente credo che sia una pubblicazione abbastanza incredibile l'inferno di Topolino, regular edition comunque ragazzi, io sto facendo questo video dell'anteprima Panini Disney senza aver visto prima il pdf, l'ho scaricato ma non l'ho visto, quindi lo sto scoprendo insieme a voi ecco, vediamo qui l'inferno di Topolino, celebrazioni dantesche l'inferno di Topolino, questa è la regular edition che costerà 25 euro 96 pagine, 25 euro, questo è un prezzo già più accessibile sempre per celebrare l'anniversario della scomparsa di Dante Alighieri ok, poi ovviamente è scritto tutto questo pdf ovviamente lo potete scaricare dal sito della Panini andiamo a vedere poi Disney Topolino presenta le 24 ore di Paperopoli Paperelli, oh ragazzi, altri gadget in arrivo a giugno sul settimanale Topolino ci saranno 5 uscite a giugno Topolino 3419 del 2 giugno il 3420, 9 giugno 3421 il 16 3422 il 23 giugno mentre il 30 giugno uscirà il 3423 vediamo un po' un imperdibile gioco da tavolo scegli il tuo personaggio preferito e partecipa con la sua vettura alla 24 ore di Paperopoli ogni giocatore avrà a disposizione un set di 23 carte specifiche per ciascun personaggio e la relativa vettura da posizionare sulla griglia di partenza la plancia del gioco è ricca di ostacoli ma da 2 a 6 giocatori non ho capito bene però non ho capito bene se usciranno ovviamente con questi Topolino a giugno questi gadget, credo proprio di sì infatti, infatti no, usciranno già da maggio estensioni del gioco il 3416 la 24 ore di Paperopoli auto di Zio Paperone con il sovrapprezzo quindi verrebbe 7,90 il 12 maggio poi il 19 maggio il 26 maggio insomma usciranno tutti questi gadget la 24 ore di Paperopoli ma ragazzi come chi mi segue lo sa che io non mi interessano tanto i gadget tranne la mano a Cortopolino che uscirà il 28 aprile il momento in cui sto registrando il video è il 15 aprile la mano a Cortopolino sovrapprezzo mi interessa però questi assolutamente no questi gadget il Club dei Supereroi numero 1 nuovo lancio cos'è? un'altra testata Disney il Club dei Supereroi numero 1 luglio 2021 uscirà costerà 4,20 euro con 144 pagine uscirà pure per il Topolino numero 3424 il sovrapprezzo insieme a Topolino Club dei Supereroi numero 1 a luglio 2021 6 euro quindi lo stesso prezzo più o meno di quanto costerà con la manacca Topolino per il Super Topolino mentre a 6,50 euro Club dei Supereroi numero 1 più Paperinic numero 55 a luglio 2001 sinceramente non so al momento direi che non mi interessa poi vedremo vedremo Mickey Mouse Mystery Magazine numero 1 per chi preordina in fumetteria entro il 30 aprile il regalo o la card esclusiva di Mickey Mouse un grande ritorno questo è giugno 2021 questo era il 9,90 credo anche nelle fumetterie Mickey attraverso i secoli anche qui per chi preordina in fumetteria sono pubblicazioni abbastanza interessanti ma sinceramente al momento non mi interessano questa costerà 14,90 64 pagine un po' tanto Topolibro omaggio a Hemingway questo invece uscirà sempre a giugno 6,90 euro 176 pagine il 60esimo anniversario della scomparsa di Ernest Hemingway ah questa è interessante questa è molto interessante io credo che queste siano pubblicazioni da fumetteria credo però ci sta ci sta omaggio a Hemingway poi c'è Paperinic l'inafferrabile vendicatore il classici Disney numero 523 ah il tredicesimo il tredicesimo classici classici Disney che uscirà a giugno 4,50 euro sarà su Paperinic l'inafferrabile vendicatore il nuovo numero dei classici Disney di autore dedicato al papero mascherato affidato al suo grande interprete ed estimatore Marco Gervasio quindi che seleziona le sue storie del cuore fra cui le celebre Paperinic e la scuola del crimen ah quindi saranno il romanzo di Paperinic con le storie selezionate da Marco Gervasio questo è interessante Paperinic l'inafferrabile vendicatore solo che c'è un problema ragazzi io non riesco mai a trovare nella mia città i classici Disney i grandi classici lo trovo anche perché al mio edicolante le ho detto che ogni mese lo voglio però i classici Disney non si riesce a trovare quasi da nessuna parte Paperinic l'eroe dietro la maschera ancora spazio a Paperinic qui si può preordinare il fumetteria 12,90 euro per 144 pagine questo non mi interessa faccio vedere un po' la copertina poi si continua con Paperino il razzo interplanetario per Topolino Gold cos'è questa uscita? questa è un'uscita a 12,90 euro anche questo sarà un cartonato tutti i cartonati invece di edicola ancora nulla Wizards of Mickey l'abisso di Cravaras 9,90 euro 48 pagine anche questo sicuramente da fumetteria e poi si va avanti il manuale delle giovani numero 15 attenzione attenzione questo è una è un fumetto che io seguo una pubblicazione che io seguo 144 pagine 4,90 euro giugno 2021 c'era numero 15 leggiamo un po' a partire da questo numero minaccia dall'infinito la grande saga scritta da Alessandro Sisti è mai ripubblicata negli anni 90 torna sulle pagine del manuale delle giovani marmotte con i primi due episodi e citerà compagnia per tutta l'estate inoltre un classico rivisitato le giovani marmotte al nuovo zoo parole di Karl Barks e disegni di Dan Gips questo ovviamente lo prenderò ragazzi il manuale delle giovani marmotte mi piace tantissimo è una delle mie pubblicazioni preferite attualmente in Disney l'almanacco topolino numero 2 il numero 1 uscirà a giugno però scusate uscirà a fine aprile il numero 2 uscirà a giugno 4,90 euro 128 pagine nel secondo numero del bimestrale al manacco topolino nuova ricca selezione di storie dall'estero prosegue la nuova saga di paperone giovane ancora coinvolto nella ricerca dell'oro del Klondike attraverso le tavole del cartoonist olandese Kari Koronen inoltre storie di Marco Rota Karl Barks Cesar Ferioli Miguel Puyol Guido Martina e Massimo De Vita Giorgio Pezzini e Giovanni Battista Carpi ragazzi il manacco di topolino mi interessa sicuramente prendo il numero 1 che sarà in allegato il 28 aprile con topolino 3414 poi non so se lo continuerò vedremo a giugno paperino numero 493 paperino è una testata che seguo e porto anche sul canale ovviamente 3,50 euro 192 pagine numero 493 ci sarà anche con la statua di paperino gold 5,50 euro quindi il sovrapprezzo a fine giugno paperino sembra essere scomparso ma lo zione non si arrende la divertente zio paperone al nipote introvabile di Carlo Panaro e Luciano Gatto è una delle storie raccolte nel paperino del mese anche su questo numero una storia inedita in apertura double duck volume 7 8,50 euro per 192 pagine questo non mi interessa zio paperone numero 36 192 pagine 3,50 euro zio paperone non è una testata che io seguo anche se devo dire che è sempre molto interessante paperinic numero 55 3,90 euro per 192 pagine continuerà paperino il megatorneo 6,90 euro 4,90 e 144 pagine questo non so se sia dedicola o anche da fumetteria credo più da fumetteria grandi classici Disney numero 66 4,90 e 144 pagine numero 66 che ovviamente io prenderò visto che ogni mese acquisto i grandi classici Disney vediamo cosa ci sarà a giugno il continente perduto di Atlantide è una delle mete dei principali eroi Disney della sezione superstar di giugno lì si avventurano paperino e archimede pitagorico topolino e zio paperone pippo e qui qua qua storia di Guido Martina Carl Barks Jerry Siegel Romano Scarpa Rodolfo Cimino e la strana coppia paperino pippo è protagonista di una storia subacqua e disegnata da un autore rimasto per decenni quasi sconosciuto l'illustratore e animatore Rino Anzi interessante poi c'è Disney Big arrivato al numero 159 6 euro per 416 pagine io non lo acquisto ho soltanto due copie ma di solito non l'acquisto topolino in giallo numero 2 160 pagine per 4,50 euro secondo volume estivo questo arriva sempre in estate topolino in team verso la luna e oltre 5,90 euro per 288 pagine proprio l'altra volta l'ho visto in ericola ma non l'ho mai acquistato ci sarà anche quel gadget di astrotopo a giugno 9,90 euro in sovrapprezzo le più grandi eventure numero 13 calcio 5 euro per 192 pagine un grande volume che non mancherà di affascinare i lettori più sportivi e questo mi potrebbe interessare perché io amo il calcio quindi potrebbe interessarmi di solito non l'acquisto soltanto una copia ma potrei acquistarlo è statissima immancabile ogni estate 3,90 euro per 192 pagine è statissima quindi disneissimo numero 102 100% risate 6 euro per 288 pagine questo mai visto in ericola e non l'ho mai acquistato scusate poi Enigmistica Topolino numero 46 3,50 euro per 48 pagine questo non mi interessa assolutamente e a chiudere il numero 102 di Paper Fantasy in uscita a 4,90 euro con 144 pagine in uscita a giugno Paper Fantasy ne ho comprato solo uno il numero 1 poi non l'ho più acquistato non è una testata che seguo abitualmente allora ragazzi ricapitolando le uscite più interessanti per me sono le più grandi avventure calcio con delle ristampe di storie per il calcio che per chi segue il calcio sono sempre molto interessanti i grandi classici Disney numero 66 che acquisterò così come il Paperino che qui abbiamo il numero 493 l'Almanacco il Topolino numero 2 potrei acquistarlo vedremo come andrà col primo se mi piacerà ma molto probabile che mi piaccia già lo so e conosco i miei gusti Emanuele delle Giovani Marmotte numero 15 poi ci sono le varie uscite dei vari Topolino le varie uscite da Fumetteria che sinceramente non tanto mi interessano io le acquisterò tutti ragazzi ma purtroppo per motivi di spazio anche per motivi economici non si può fatemi sapere nei commenti cosa acquisterete cosa vi stuzzica di più da questa anteprima Disney 356 di giugno quello che vorrete acquistare è quello che insomma vi stuzzica di più io continuerò con le solite testate che acquisto sempre però potrei acquistare anche la Manacolo di Topolino numero 2 forse le più grandi avventure del calcio vediamo 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 vedremo però la chicca secondo me è l'inferno di Topolino quella lì è veramente la chicca solo che il costo mi sembra un po' troppo alto soprattutto dall'edizione con la prefazione di Tiziano Sclavi 79 euro va bene comunque ragazzi grazie a tutti grazie ovviamente del supporto grazie per aver visto questo video fatemi sapere ovviamente nei commenti i vostri gusti e quello che acquisterete di Disney a giugno per chi vede per la prima volta un mio video spero vi sia piaciuto il contenuto e che possiate iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti